frontino siamo con il nostro contenitore che sport per incontrare il campione del pugilato del montefetto che andrà a conquistare il titolo mondiale Mirko Larghetti ha fra poco che sport direttamente dal bianco spingo di frontino in un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di casinina di pesaro sorge il piccolo santuario dell'osi della pace di santarita un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20 e 30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16 e 30 al santo rosario e preghiera di santarita dedicato a tutti gli ammalati sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità informazioni al 335 80 94 107 visita il sito www.amoreperilsignore.com venerdì 22 agosto alle 20 e 30 una luce nel cuore di santarita cenacolo di preghiera per i benefici ricevuti hai mai pensato alla rosatura come trattamento un lusso alla portata di tutti grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali arresta la calvizie e vi addio a tutti i problemi di cuore che apprezzato con gli raggi arresta alberto a casinia d'avvisore Mirko Larghetti classe 1983 professionista dal 2009 il 30 agosto prossimo presso il Jerry Weber Stadium di Allen in Germania cercherà di conquistare il titolo mondiale WBO e il toro di Frontino e accompagnato dal suo allenatore Mario Massai affronterà lo scazzatatore Marco Hook cercando di conquistare il titolo mondiale come ti stai preparando Mirko? Chi ti sta vicino? Come stai vivendo questi ultimi giorni qua a Frontino il tuo paese natale? Allora mi sto preparando al palazzetto dello sport di Frontino e gli stiamo dando dentro in cima a Mario Massai il mio allenatore che sta a Civitavecchia mi ha fatto il favore lui e la famiglia di venire su qua e starmi vicino qua nella mia terra Ecco un passato Mirko nella zona di famiglia a fare l'agricoltura è una parentesi dal muratore ma come nasce la passione per la box? Allora la passione per la box è iniziata semplicemente guardando Rocky da piccolino poi dopo verso i 22 anni ho cominciato ad andare in palestra a Morciano a Taverna da Ricco Maestri e poi da lì ho vinto il titolo italiano e ho cominciato, sono passato professionista e sono arrivato fino a qui a disputare il titolo WBO in Germania per il titolo del mondo una cosa importantissima, è un'impresa andare là e vincere Ecco un'impresa ma come si diventa campioni poi di box? Come si arriva ai tuoi livelli da una semplice passione guardando Rocky e poi gli allenamenti alla palestra di Morciano ma arrivare ad altri livelli, sono tanti anche i giovani che piano piano si stanno approcciando avvicinando alla box che è uno sport tenuto forse per troppo tempo in secondo piano che cerca di emergere oggi nel 2014 Per diventare campioni ci vuole tanto impegno, tanti sacrifici fare le scelte giuste e poi un po' di fortuna incontrare le persone giuste la moglie che ti segue e che abbia voglia di starti vicino e poi la capacità e la passione Ecco e una preparazione tra poco andrai ad allenarti, quante ore ti allinea al giorno? Allora al giorno ci alleniamo sulle due orette al giorno, un'ora la mattina e un'ora la sera C'è una preparazione anche dal punto di vista dietetico come ti regoli? Purtroppo sì, c'è anche una preparazione da mangiare, bisogna mangiare giusto, in bianco, non condito togliere l'alcol di mezzo, purtroppo c'è anche quella lì e poi bisogna darsi da fare, crederci E non arrendersi E non arrendersi, mai anzi Dovevi sfidare Capitan Hook lo scorso 29 marzo Proprio con l'infortunio suo è stato rimandato al 30 d'agosto E qualche periodo fa Mark Hook ha rilasciato questa frase, questa dichiarazione Questa sarà la prima e l'ultima sfida per il titolo mondiale di Larghetti Dopo che mi avrà affrontato si pentirà di essere voluto salire sul ring contro di me Farò spaghetti di Larghetti, ma questi spaghetti Mirko, chi li mangerà? Beh, adesso quelli lì sono delle battute che fa lui Adesso bisogna vedere sul ring come si comporterà Come mi comporterò io E penso di rendergli la vita molto difficile Questa qui è una cosa sicura Perché io voglio andare su a vincere, non a mangiare i spaghetti Festeggeremo un piatto di spaghetti e un bel boccato di birra? Prima vinciamo il titolo e poi dopo ci penso io a festeggiare Allora Mirko, un grande in bocca al lupo E buona fortuna Grazie, crepi per il bocca al lupo E grazie per la fortuna Bravo amore! Mario Massai, classe 1964, allenatore di Mirko Larghetti Già campione pesi leggeri italiano 1982 Come hai iniziato il suo percorso con Mirko? Beh, Mirko era uno sparring che veniva in palestra Io sono stato l'allenatore di Silvio Branco E veniva a fare lo sparring in palestra Ha deciso poi di allenarsi con me Ho preso un ragazzo che già aveva una struttura molto forte Abbiamo lavorato insieme e ci siamo levati qualche soddisfazione Mirko come si sta allenando? Come sta preparando il toro di frontino alla competizione dei treni? Beh, ci stiamo preparando intanto come tutti gli altri incontri che abbiamo fatto Questa preparazione è rimasta un po' più dura Perché abbiamo preso più giorni per farci a buon fine E dunque ci stiamo allenando di continuo Oggi ancora stiamo qua A otto giorni dal combattimento Siamo ancora in palestra ad allenarci Manca veramente una manciata di giorni alla data dei 30 La box è purtroppo uno di quegli sport che in tutti i canali tematici sportivi Ma anche nei contenitori sportivi della televisione È forse in secondo piano Secondo lei perché vogliamo lanciare un appello Perché la box deve essere uno sport conosciuto Uno sport che si possa vedere anche in televisione Dare spazio non solo al calcio quindi ma anche alla box Beh, intanto per incominciare diciamo che lo sport del pugilato Viene appunto differenziato nel momento che si chiama noble art Si insegnano i ragazzi a non litigare per strada A avere un'educazione sportiva che è la base principale Che oggi manca, manca un po' a tutti È diventato uno sport di secondo livello Perché vediamo dei bambini che giocano a pallone Senza nulla togliere al pallone O alle altre sport che seguiti da televisioni Con strutture non indifferenti Noi ci troviamo qua a Frontino Grazie al sindaco che ci ha dato questa opportunità E grazie a Martina, la moglie di Mirko Larghetti Che si è affrettata a montare un ring A montare dei sacchi A fare tutto questo per allenarci Ecco, mancano veramente pochi giorni Come ricordavamo, come ultima battuta In Germania, l'alle andrete con qualche associazione di categoria Siete supportati comunque da qualcuno o soli? Sì, hanno appunto fatto qua proprio a Frontino Dei Pullman che partiranno per venire a vedere l'incontro Con gli abitanti di Frontino Ci saranno sostenitori ma credo che saremo pochi Perché in confronto agli 8.000-7.000 persone Che ci saranno per Mark Cook È venuta la televisione tedesca qua e ci ha detto che saranno 45 milioni di spettatori Che seguiranno l'incontro Dunque sappiamo che Di andare e fare il nostro evento Da l'Italia possiamo seguirlo in diretta televisiva? Io lo spererei Se ci fosse qualche televisione Che viene a riprendere magari Questo è il pugilato Non ci tutela nessuno Speriamo che qualcuno sente il nostro appello Se viene qualche televisione Visto e consideravo che si va all'estero A fare un titolo mondiale Perlomeno sapere le regole e non regole Qualcuno che ci dà un aiuto Antonio Larghetti Papà di Mirko Fra pochissimi giorni Mirko partirà Per questa grande conquista in Germania Adalle Come sta vivendo questi giorni? Non ci credevamo Pensavamo che fosse un traguardo irraggiungibile Invece ci è riuscito Con costanza Con forza di volontà Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta E è arrivato in cima Adesso vediamo un po' Come andrà a finire Cosa ricorda del Mirko Che iniziava a muovere i primi passi A dare i primi cazzotti Possiamo dire Sul ring Cosa ricorda? Come vivevate voi in famiglia A questi momenti? Niente Noi la boxe eravamo abituati A vederla solamente in televisione Non ci pensavamo nemmeno Che uno in famiglia Prendesse sta strada E così Ha iniziato per gioco Ha iniziato Per scherzo Poi ha iniziato a piacerli Poi si sono cominciati A vedere i primi risultati E è diventato campione italiano In poco tempo Poi è passato nei professionisti E ha fatto strada Fino ad arrivare adesso Lei e sua moglie Andrite ad Alle? Io sì Io vado Adesso mia moglie Non lo so Ma c'è un talismano Che porterà con sé? Io sono già emozionato Adesso Sono molto teso Non so Speriamo di affrontare la cosa Con calma La serenità Giacobbe Fragomini E' anche lui qua a Frontino Accanto a Mirko Larghetti 25 si parte Lui Io rimango qua Sono venuto Per mia fortuna A preparare Mirko Un grande atleta Un grande uomo Che si sta preparando molto bene E ho avuto l'occasione La fortuna Di venirmi a preparare con lui Quindi Sto notando Che ha avuto Un sacco di miglioramenti Stanno davanti Incrociamo le dita Che va lì in Germania E ci porta a casa Il titolo La grande pugile La grande atleta Cosa vuole dire A tutti i giovani Che si avvicinano alla box Fate la box Perché la box E' una grande cosa Non è vero che è violenza La violenza è nel calcio Quando fuori Negli spalti La box E' reale La box E' vita La box Ti insegna Ad essere quello che sei Ad essere Più Più forte E più sereno Non hai bisogno Di andare in giro A sfogarti A picchiare le persone Anche perché Tutta questa rabbia Che hai La sfoghi dentro le palestre Quindi Fate la box Che è bella Di ormai Di ormai Ciao Di ormai 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 Di ormai